Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi ci troviamo a Montepoieto nelle montagne bergamasche, qui faremo un volo doppio, una location fantastica perché c'è solo un resort in cima alla montagna che si raggiunge con una cabinovia o a piedi. Questo resort che è in cima alla montagna, siamo circa a 1.300 metri, fa molto freddo, o meglio fa abbastanza freddo perché ci sono circa meno 3 gradi in questo momento. Faremo un volo panoramico sia con Autelivo che con Mavic Mini, entrambi impostati a 2,7k, cioè la risoluzione del massima del Mavic Mini. Ovviamente non è un confronto per vedere chi è meglio perché mi sembra abbastanza scontata la cosa, anche perché Autelivo probabilmente è una delle due migliori fotocamere richiudibili al momento sul mercato, ma è giusto per capire a che livello è il 2,7k del Mavic Mini. Quindi avendo come punto di riferimento una qualità top come quella dell'Autelivo si può vedere un confronto e dire cavoli però Mavic Mini si difende bene, non è male, o invece potremmo dire Mavic Mini come risoluzione del 2,7k è proprio un disastro, che ne so, una roba del genere. Quindi per vedere che è meglio che è scontato, ma appunto per vedere a che livello è il 2,7k del Mavic Mini. Quindi adesso ragazzi decolliamo in questa fantastica location super panoramica, super spettacolo, cercheremo di volare anche ad una croce che è nella montagna qua di fronte, ci sono molte interferenze perché c'è un sacco di antenne qua intorno, sono vicinissime, si vedono a occhio nudo, quindi ragazzi sperando che non diano troppe interferenze arrivando alla croce che c'è sulla montagna dall'altra parte. Per entrambi i droni ho montato un filtro ND8 Polar Pro per Autelivo e PGTEC per Mavic Mini. Entrambi comunque li lasceremo in modalità auto perché ovviamente per avere un confronto più diciamo o meglio per vedere il livello del Mavic Mini bisogna lasciare in automatico anche quello del Autelivo, mentre così si ha più diciamo un raffronto per vedere il livello appunto del 2,7k del Mavic Mini. E con Autelivo decolleremo anche dal centro di un laghetto ghiacciato, quindi un landing un po' particolare per questo fantastico drone. Quindi adesso ragazzi vogliamo a 2,7k qua a Montepoglietto con Mavic Mini e Autelivo. Bye! Sì 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 Sì